buonasera a tutti ragazzi vorrei fare questo video per ritornare a parlare del coltello ok questa è una replica praticamente fatta regola d'arte insomma molto buono allora voglio tornare a parlare del coltello perché sempre da web insomma persone che mi contattano addirittura mi ha contattato un tizio che mi ha detto io sono un master di di varie associazioni titolato da varie associazioni campione italiano di difesa personale io sono rimasto in questo così campione a difesa personale adesso mi sto specializzando sul coltello e ti faccio vedere alcuni miei video dove propongo corsi allora intanto come dico sempre il coltello ok è un'arma molto insidiosa ok perciò nella pratica non esistono situazioni di danza taglio ripasso ritaglio ripasso questo sempre con qualcuno che collabora con voi ok qualcuno che vi fa muovere e vi fa spostare i movimenti taglio rientro ritaglio e sto inizio mi diceva mi sto speciale faccio dei corsi di coltello perché mi sono specializzato con vari maestri filippini e adesso insegno e trasmette alla gente la difesa personale con il coltello allora signore attenzione perché intanto incitare a qualcuno di andare in giro con un coltello in tasca è una cosa che se ve la sentite di fare fatela io non lo farei punto primo punto secondo tagliare qualcuno col coltello tagliare qualcuno col coltello ci vuole abbastanza fegato e dare coltellate ci vuole diciamo anche una certa esperienza ok ma la cosa che più è strana ed è quello che si vende è proprio che tutti i corsi di questo tizio e dei video che mi si presentano sempre c'è sempre un discorso di tutti i movimenti no io taglio tocco ripasso ritaglio tocco ripasso ritaglio e la mia domanda è sempre la stessa ma come faccio a difendermi con un coltello se chi mi si avvicina il coltello nemmeno me lo fa vedere ok facciamo un esempio dei coltelli nascosti non rimani dietro distraggono sta altra mano per riuscire arrivare al collo oppure coltellate e tirate forte in velocità in questa fase dentro dentro come riesco a fare queste cose danze resche ok e tanti mi dicono no ma perché tu non capisci quelli sono esercizi che si fanno all'inizio per imparare i movimenti dopo un po che tu pratichi diventi velocissimo e riesce a intercettare un coltellata signori miei ma se è difficile già a mani nude riuscire a captare da dove vengono i pugni ok immaginiamo le coltellate che le lame di solito non si vedono sono nascoste di chi si avvicina perché non c'è il duello come dissi già un vecchio video non c'è uno apro e inizio a duellare ma la questione molto più insidiosa chi si avvicina verso di voi cercherà di trarvi l'inganno e di prendervi nella posizione più naturale ok perché non vi vuole allertare infatti se vedete dei video reali su aggressioni di coltello non c'è nessuno che spi che ti sfida ma anzi tanti sono di spalle quella riva e buca oppure cerca di nasconderle le lame faccio un esempio dei tanti no con l'abbraccio dietro oppure nel momento in cui nascondo i coltelli vedete dal braccio che è nascosto ok l'unica cosa che può dirmi che l'altro armato di coltello è perché non vede il pollice vedete ma lo posso poggiare su una gamba ok e sui lati vedete ok oppure in questa situazione qui vedete mi avvicino per chiederne magari un'informazione per indicarti e farti girare ed è il momento buono che scatta la minaccia alla gola ok perciò non ci sono duelli queste sono è l'arte marziale è bellissima ma non la spacciamo per difesa personale cioè difendersi con un coltello e danziamo insieme no quello è il ballo è un'altra cosa non c'entra completamente niente anche questo sono false illusioni però attenzione più pericolose perché vi fanno mettere in condizioni di mettervi un coltello in tasca ok e se capita una situazione del genere è ancora più difficile perciò fate molta attenzione fate molta attenzione che ricordo che le lame chi vi aggredisce non ve le fa mai vedere ok ci sono duemila situazioni che poi le lame possono essere i coltelli come possono essere le lamette in mezzo alle mani voi pensate che se sto gesticolando con voi mentre parlo io potrei nascondere delle la delle gillette in mezzo alle mani e nemmeno ve ne accorgete ok e magari gesticolo vedete ok e nel momento in cui vedo che la situazione è buona che cerco il lato migliore per distrarti con qualsiasi scusa più scema che posso avere arrivo al viso ok perciò attenzione guardate faccio un esempio piccolo pezzo di carta vedete ok che potrebbe simulare quello che sia una gillette chiusa in questa situazione mentre il gesticolo tu nemmeno te ne accorgi o vedi cioè se io mi avvicino a vedete guardate le mani sono chiuse il gesticolo qua eccola vedete immaginate che adesso avete il collo avete di fronte posso chiedere qualsiasi cosa senti scusa che poi per starmi il cellulare mi serve per emergenza una situazione dai per favore la prima cosa che dite no perciò nel momento in cui pensate di muovervi è arrivato ok oppure ripeto scusa senti mi sono perso un'informazione senti io venivo da sta via ma se devo girare all'altra parte tu chiaramente io mentre indico il tuo il tuo viso cerca il i vari punti di riferimento ed è in quel momento che pa scatta la minaccia ma non ma non arriva nessuno da lontano in una situazione in cui sfida e chiede il duello che ti si avvicina in queste situazioni queste sono belle da praticare ma per cortesia non spiacciamole per aver difesa personale perché sono completamente fuori fuori luogo ok la strada insidiosa non si vede chi si avvicina armato di corte nessuno vi mostra le lame nessuno ok perciò finiamola di spacciare queste cose e di far diventare potta che poi tra l'altro questi stessi stizi me li ritrovo in poligono chi mi segue sa che sono il responsabile nazionale del coordinamento asi di tiro mi ritrovo sti sti fenomeni che oltre questo ci hanno pure porto darmi ad uso sportivo che poi magari fanno tutt'altro di lavoro magari fanno dei lavori bellissimi perché la geometra il postino e via dicendo però mi ritrovo poi a tutti sti tizi no col cappellino operative special operation occhiale special operation e tutto il resto tutto abbigliamento 5.1 ok perciò pistola caricatore doppio caricatore ma quello che mi fanno ride poi il cortellaccio così grosso da rambo super cinturone che mi spiega che serve quando a te serve un poligono occhiali cappellino nastro carta spillatrice eventuale pennarello è un doppio caricatore se te serve fare il cambio per gli esercizi ma tutte ste cose qualche servono che poi tra l'altro vedi sti stessi personaggi tutti vestiti da un milione di dollari perché poi sembra che a guardarli dice ammazza questi qua cioè questi sparano montano in macchina vanno all'aeroporto vanno in afghanistan e tu dici ma ammazza poi però gli trovi la sparanza non manco un pugnano a pistola cioè oppure i capriole sparano poi tirano fuori il cortello e tagliano la sagoma ma sta tagliano la sagoma di cartone che è ferma ma che è signora attenzione c'è proprio una gran confusione la strada non è un gioco come le lami come le armi da fuoco come dico sempre c'è l'attenzione dei trainelli testi signori che spacciano sti corsi l'altro giorno il tizio che spacciava col video una bella musica poi persone che non hanno mai fatto il militare in vita loro tutti i vestiti con gilettati c'è questi cortelli pum pam 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 ripassa ritocca riprende ripassa e se ci mette la musica pare una danza tattara tattata tattata cioè di che quando gli arriva e magari cerca di fare qualcosa ti fa una domanda e fa boom boom entra dentro ma che dov'hai con le mani allora voglio salutare tutti un abbraccio a ai ragazzi di avezzano gaetano e roberto un saluto grande a radio luna un abbraccio a tutto il mio team manuele sempre con noi e seguiteci sul nostro canale e qualsiasi dubbio chiarimento come sempre o commentate sotto i video oppure eventualmente mi scrivete via whatsapp ah un abbraccio forte al gruppo di whatsapp fight for safety di mdcm ok che mi propongono sempre video e mi danno degli ottimi suggerimenti un abbraccio a tutti quanti e mi raccomando non è un gioco attenzione